Musica Buongiorno, bentrovati, buon sabato mattina, buona festa del 2 giugno a tutti voi Naturalmente come sempre ogni sabato siamo qui per occhio ai giornali Vi facciamo vedere le notizie principali sul resto del Calino e Corriere Adriatico In edizione locale ma prima guardiamo l'almanacco del giorno, cosa ci dice e poi le previsioni del tempo Allora oggi appunto come vi dicevo sabato 2 giugno Santi, Polito, Blandina e compagni Il sole è sorto alle ore 5 e 28, il sole tramonterà alle 20 e 44 Scusate i Santi sono Potito, Blandina e compagni Ecco quindi tramonto e sole e alba ve li abbiamo già detti Guardiamo le previsioni del tempo, oggi naturalmente il sole fa da padrona Sereno, poco più nuvoloso per debole attività cumuliforme pomeridiana Però sui settori montani le precipitazioni sono assenti e quindi temperatura senza variazioni di rilievo Anche per domani, domenica è una copia a carbone quella della didascalia Vedete sole pieno su tutte le marche, qualche nuvola e qualche annuvolamento sulle zone montuose Quindi debole attività pomeridiana però sui settori montani per quanto riguarda la nuvolosità Nessuna precipitazione all'orizzonte, le temperature saranno però in lieve aumento Vediamo lunedì l'inizio della settimana prossima Il cielo, vedete, sulla nostra provincia c'è sole pieno e anche nel resto della costa possiamo dire Cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso Però la nuvolosità andrà aumentando nel corso della giornata però sui rilievi Le precipitazioni saranno presenti, faranno parte nelle ore centrali Però più che altro nei settori montani e collinari Bella fascia della fascia meridionale della regione Marche Come vedete anche dalla grafica Quale sarà la tendenza per i giorni successivi? Aria più umida favorirà un aumento dell'instabilità durante la giornata di lunedì Questa è la previsione del tempo per il fine settimana e anche l'inizio della settimana Quindi ci aspetta un weekend di pieno sole quasi al 100% Guardiamo subito i giornali, entriamo nel Corriere Adriatico In primo piano contro i raid di ladri e i vandalismi Guardiani e telecamere in spiaggia Si affronta la stagione balneare 2018 Prendendo anche le contromisure sulla criminalità Ce ne ha balneatori Dice si potrebbe pensare a un tandem interforze per un presidio maggiore Intanto la fotonotizia è Conte mi ha telefonato Il ministro è Tonelli Coltorti beffato Niente infrastrutture Il senatore Iesino del Movimento 5 Stelle senza rimpianti Se vorrà lo aiuterò Avrà l'incarico da vice E poi i rifiuti Gli utili si impennano ma le bollette restano care L'opposizione attacca il Comune Siamo a Pesaro Per i dividendi nel Mirino L'Atari ritenuta tra le più alte nella regione Andiamo con la pagina di Fano del Corriere Adriatico Servizi sociali Caritas Sinergie per contrastare il disagio sociale Il Comune, l'associazione caritativa Argine delle nuove forme di povertà Quindi associazione tra servizi sociali e Caritas Per il contrasto alla fasce più devoli Dell'indigenza e delle difficoltà Poi la tua Fano qui di spalle sconfessa Luca Serfilippi Dicono sì di meta Il consigliere ora passato alla Lega Non ci rappresenta E poi sono state riaperte al traffico ieri Via Ruggeri e Via Del Bersaglio Chiuse da mesi per i lavori agli scolmatori Ieri c'erano appunto i lavori anche di asfaltatura di quella zona Ancora nelle pagine di Fano del Corriere Adriatico Malinconia e passione per l'addio dopo cento anni Opening d'arte, filosofia e musica alla Polloni Che va via da Palazzo Marcolini Vedete qui appunto un momento della performance all'esterno dell'istituto Alla presenza di docenti e di alunni Nelle pagine ancora di Fano al Via Il servizio di salvamento Sei postazioni sul littorale Libre Dove vedete qui una delle torrette Da dove guardano il mare e gli addetti al salvamento Per controllare che tutto avvenga nel modo più corretto possibile Il bando assegnato all'associazione Incoming Dotata di ben tre defibrillatori Ancora dal Corriere Adriatico La pagina di Vallefoglia Segnalazioni Aspes da un taglio È un titolo chiaramente evocativo Verde pubblico Si lavora così Vagnini dice Pioggia ed eventi del comune C'è un iter Ma ascoltiamo anche i residenti E poi a Osteria Nuova Mezzo secolo di spalla della parrocchia Nella preghiera Processione, Mesa e Festa Con quattro sacerdoti presenti Siamo a Montelabate Il tutto verrà questa sera alle ore 18 A Urbino invece Il Corriere Adriatico Focalizza sul Silent Party In silenzio c'è il party Piazza affollata Per la seconda edizione di Silent Disco Comuni, commercianti, Red Bull e studenti soddisfatti Che cosa avviene? Ve lo spiego Spero nel modo più semplice possibile La musica non viene sparata ad alto volume Nelle piazze o nei luoghi dove avviene Questo Silent Party Ma tutti i partecipanti vengono dotati Non so se le vedete qui In questo riquadro Adesso cerco di allargare Di cuffie Sono cuffie sintonizzate Attraverso il wifi Con il mixer del DJ E quindi ascoltano la musica In cuffia E ballano E quindi chi non è dotato di cuffie Arriva lì Vede un centinaio di persone Che si dimenano come degli scalmanati Senza sentire la musica Ma in realtà la musica la sentono soltanto loro Però insomma ne beneficiano sicuramente gli abitanti del luogo Perché non sentono niente E i partecipanti in realtà poi si divertono molto Quindi insomma una brillante idea Nella Val Cesano Strada comunale data alla provincia Si attende un rapido inizio dei lavori Siamo a Pergola Vedete il sopraluogo Dei fratelli Baldelli Con gli amministratori comunali Il consiglio approva l'atto Il sindaco Baldelli Sottolinea la collaborazione Con Tagliolini Tagliolani Tagliolani Il presidente della provincia Di Pesaro e Urbino E andiamo a vedere Nelle pagine del Corriere Adriatico Da Pesaro Guardiani appunto E telecamere Per spiagge in sicurezza Il titolo di apertura Con l'avvio della stagione balneare Si ripropone naturalmente Il problema dei controlli notturni Negli stabilimenti Memori Dei vandalismi Avvenuti anche in passato I bagnini Vogliono fare Non si vogliono far cogliere Impreparati E si sono attrezzati Vedete qui Un'immagine della spiaggia Sottomonte di sera Appunto illuminata dalle luci Insomma Dell'illuminazione pubblica E di altre strutture Che sono presenti Nei bagni San Bartolo Per salvare la Falesia Doppio piano Allo studio Un progetto Da 500.000 euro Per tutelare Anche la strada panoramica Vedete qui La Falesia Come viene presentata Dopo i danni E questa è la strada Vedete frane Sicuramente importanti Al via Tanti progetti E molti fondi Anche E poi Oggi appunto Vi dicevo Il 2 giugno Festa della Repubblica A Pesaro Celebrazioni Questa mattina Festa della Repubblica In piazza Nuovi cavalieri E commendatori Stamattina La cerimonia Solenne Anche alla presenza Degli studenti E poi Le onorificenze E le benemerenze Cambiamo la pagina E la testata Andiamo nel resto Del carlino L'apertura È per Ambera Non pensi Di sfuggire Il delitto Ismaele Lulli Parla La madre Della Della vitima La mamma Di Ismaele E continuerò Dice a cercare Le prove Dopo i due ergastoli Di Igli E Mario Lei è la causa Di tutto Dice Io rimango convinta Che mio figlio Sia stato prelevato In casa Non è uscito Da solo E poi Invece La pagina La fotonotizia Vivere Rossini Celebrazioni Rossiniane Una sola proposta Per il museo E Palazzo Montani Antaldi Un milione Di investimento Per un'esperienza Multimediale Allora Eccola Qui la pagina L'articolo L'intervista Alla mamma Di Ismaele Dice Appunto Il resto Del Carlino Deborah È una mamma Che non perdona Ambera Non pensi Di sfuggire Alle sue colpe Io non smetterò Di cercare Di cercare Le prove E poi Un plauso Va anche Agli inquirenti La procura di Urbino È stata Incomiabile La condanna In appello Ai due regastoli Testimonia Il lavoro Svolto Ma la ragazza Non è Innocente Ancora dal Carlino Vi apro la pagina Di Fano Che mette in primo piano Appunto Sara Bracci Lunedì ci sarà Il funerale Nella chiesa San Biagio A Cucurano Sara Sara Bracci Tanti i ricordi E il cordoglio In queste ore Veramente Tante persone Si sono strette Attorno alla famiglia E al suo compagno E insomma Tutti coloro Che le volevano bene Perché Sara Bracci L'ambasciatrice Del gusto La vedete qui In una bella immagine Quando indossava La divisa Dell'AIS È rimasta Nel cuore Di tanti Di tutti quelli Che l'hanno seguita In tutte le sue manifestazioni In tutto quello Che ha creato Per il territorio Era una ragazza Che credeva Fortissimamente Nelle potenzialità Di questo territorio L'AIS Marche Dice Ti ritroveremo Nel procedere Dei progetti Che ci hai lasciato Sarai con noi Nei fugaci Brindisi Che Che faremo E poi Continueremo A camminare Sui tuoi passi Scusate Continueremo A camminare Sui tuoi passi È la commovente Lettera Dell'Associazione Deglieno Gastronomi E quindi Un'ulteriore Testimonianza Di tutto il patrimonio Che Sara Ci ha lasciato E che continuerà A essere presente Nel territorio Grazie all'azione Dei suoi amici E dei suoi colleghi C'è anche La pagina Della politica Su Fano Ser Filippi È al centro Dell'attenzione In questi ultimi tempi Appunto Per la sua iscrizione Da Sostenitore Alla Lega Duro il coordinamento Della lista La tua Fano Ci vanno giuduri E dicono Ser Filippi Adesso si dimetta In aula Non ci rappresenta Più Quindi Nonostante lui Dica che Rappresenterà Ancora i voti Della tua Fano Che non ha intenzione Di dimettersi La richiesta Di dimissioni Arriva proprio Dal coordinamento Della lista La tua Fano Che lo invita A dimettersi Massimo Della Lega Dice Da noi Luca È un semplice Iscritto Non ha l'ambizione Di candidarsi A sindaco E poi Di spalla Concorso Canoro Per cori scolastici Oggi e domani A teatro Vedete I piccoli performer Pronti a dare Il meglio Di loro stessi Per la gioia Di mamme Nonne E parenti Ancora Dalle pagine Di Fano Del resto Del Carlino Trattative Per ampliare Il sottopasso Di via Cairoli Vedremo come si Svilupperà L'assessore Fanesi Ne sta parlando Con le ferrovie Della Ustato Intanto A proposito Di sottopassi Inaugurato Ieri Quello nuovo Di Ponte Sasso Insomma Tanto richiesto E tanto voluto Dagli abitanti Di quella zona Ancora L'ultima pagina Che vi propongo È quella che riguarda Urbino Per un'azione Di una Faina Scusate Che si è Introdotta In una fattoria Didattica E ha Sterminato Praticamente Tutti gli esemplari Presenti Il recinto Antivolpe Non è sufficiente E ben 68 Volatili Sono tornati Al creatore Colpa Delle norme Dice L'allevatore Esasperato Francesco Di Mauro Va già Giù duro E dice Attacchi Ormai O attacchi Ormai Continui Vedete Qui Nelle foto Il bottino La strage Che la Faina Ha fatta Disperazione Alla Lucignolo Questa È la Fattoria Didattica Di Miniera Siamo Lasciati Soli La situazione È In Invivibile Questo Il commento Del suo Proprietario Bene Questa era L'ultima notizia Che vi leggevo Per quest'oggi Termina qui Occhio ai giornali Naturalmente tornerà Puntualmente lunedì mattina Alle 7 E 30 Grazie per essere stati In nostra compagnia Questo è il numero In sovrimpressione Che vedete per le vostre Segnalazioni Un saluto anche a coloro Che ci seguono Via web O sulla nostra Pagina Facebook Che gli permette Vi permette Naturalmente di seguirci Ovunque voi Vi troviate Anche se non siete Nella regione Marche Bene Grazie Buon fine settimana A tutti voi Arrivederci Alla settimana prossima Grazie a tutti